Tensione in chiesa tra polizia e alcuni cosiddetti no mask. E' successo ieri a Pescara. Durante la messa delle venti nella Basilica della Madonna dei Sette Dolori, un uomo avrebbe minacciato il prete e intimato ai fedeli di levare la mascherina. Al rifiuto dei parrocchiani, l'uomo sarebbe tornato in compagnia di una ventina di persone che all'ingresso della chiesa si sarebbero opposti al controllo da parte di quattro poliziotti intervenuti. Ne è scaturita una colluttazione durante la quale le forze dell'ordine hanno deciso di utilizzare lo spray al peperoncino. In seguito alcuni agenti si sono recati al pronto soccorso per le contusioni riportate. La tensione infatti si è alzata nel momento in cui i soggetti in questione avrebbero provato a sottrarsi alla polizia cercando un'uscita secondaria attraverso la sacrestia. Una delle persone ha provato a tirar fuori la pistola dal cinturone di un poliziotto, ha dichiarato il questore Liguori. A Pescara abbiamo garantito la libertà di manifestare, sono alcuni mesi che avvengono delle manifestazioni pacifiche, dobbiamo sottolinearlo, ultimamente si sono verificati alcuni episodi. Ieri abbiamo avuto un livello, francamente, che non ci aspettavamo, di un salto di qualità sotto questo aspetto. La protesta è stata sedata con l'arresto di un pescarese. Altre sei persone, tra i 30 e i 40 anni, tre del pescarese e tre del chietino, sono state denunciate e ora si sta procedendo all'identificazione degli altri componenti del gruppo. Tra coloro senza ancora un volto, colui che avrebbe provato a sottrarre l'arma al poliziotto. Le denunce sono per resistenza, lesioni aggravate, turbativa della funzione religiosa e rifiuto di indicazioni sulla propria identità. L'episodio è sintomo di una tensione crescente e trasversale all'interno della società a Pescara, come nel resto d'Italia, che negli ultimi giorni ha portato migliaia di persone, da nord a sud, a scendere in piazza contro le ultime restrizioni anti-covid imposte dal governo. La libertà di manifestare è garantita a tutti nelle forme consentite dalla legge. In questo caso abbiamo delle persone che hanno dei convincimenti personali, che tendono a far sì che questi convincimenti vengano estesi poi al resto della collettività, che ha un convincimento esattamente contrario a loro, quello di indossare i presidi, come stiamo facendo noi tutti in questo momento, soprattutto nei luoghi chiusi, per tutelare la salute pubblica, che è garantita dalla Costituzione anche questa.